Per passare la gara di Varese, siamo giunti alla 36esima edizione, partirà il 25 di febbraio 2018, alle 9.30 parte il percorso lungo, il minigiro viene fatto alle 9.10 perché parte 20 minuti prima, il minigiro è circa un chilometro, mentre il percorso lungo sono 8 chilometri e 2,8 chilometri e mezzo. Parte sempre dalla sede del Frigo Nereo Lampadari, dove c'è qua il nostro regista Marco Frigo, presidente, si partirà sempre da sotto l'arco registrando i partecipanti col chip, si insegnerà la via Tristi e poi ci sono i miei colleghi del 100% PdOr 2017 che vi illustreranno tratto per tratto. Bene, questa è la presentazione della prima gara del piede d'oro. Siamo appena partiti, la gara è già iniziata da circa 800 metri, qui si arriverà tutti a palla. Siamo qui davanti alla scultura intitolata Giovanni Borghi, fondatore Ignis, chi lo ricorda, della grande innis di basket e siamo qui di fronte allo stadio Ossola e questa scultura è stata fatta dalla grande Pratini. Ci siamo, ci siamo, eccoci! Siamo arrivati alla chiesa di San Giovanni Barchista da Vigno, siamo a circa il secondo chilometro, abbiamo percorso un trasso leggermente in salita, adesso ci stiamo per incamminare per affrontare la salita della scalinata dedicata a Dario Bonvini, lo storico presidente e fondatore del piede d'oro. È la prima difficoltà della giornata e qua si inizia a fare il suo stereo. Bene, è conclusa la prima vera salita della Marciando, che è una scalinata in realtà, ha solo qualche gradino nella zona centrale, però è la prima vera salita quindi il gruppo inizierà sicuramente a scremarsi e i primi potranno già... Arriviamo alla bellissima chiesetta di San Cassiano, completamente immersa nel verde, sorge sull'antica pedemontana del Campo dei Fiori nella direzione del Verbano. È una chiesetta che ha oltre 900 anni di storia, infatti le prime notizie risalgono al 1115, è dedicata al Santo Ippolito Cassiano e vi dico se lo vedete a vederlo. Bravissimo! Eccoci, adesso dalla chiesa di San Cassiano, scalinata dedicata al professor Arcelli, fino alla Torre di Verate. Riprendi anche un po', capito se no... Se non riprendiamo il futuro candidato, il vincitore... Non riesce neanche a fare la salita dedicata. Eccoci, dopo questo strappetto nello sterrato giungiamo alla Torre di Verate, nel borgo storico del paese fra i più antichi di Varese, fatta nell'Ottocento. Adesso continuiamo nel centro abitato. Google, stiamo correndo! Allora... Ecco, ci siamo arrivati all'inizio del volco di Verate, stiamo per arrivare al ciotolato buttuso, che è sempre una delle parti caratteristiche, particolari, ma anche di quelle della gara. Credo che per questo tipo di terreno avranno anche meglio gli scalatori. Comunque dobbiamo chiamarci di tanta gritta, ma non mi sento che la sua alimenta dolcita dalle note delle angozze e della sua musica. E quindi andiamo! Bravissimo! Bravissimo! Andiamo! No... Eh... La discesa... Va... I capitano a te adesso... 3, 2, 1... allora, finita la salita... Finita la salita, se io vai il ciotolato è tutto chiuso, giusto... giusto per scaldarsi, va benissimo... Adesso inizia la discesa che aiuta un po' a rilassarsi. Impegnativa. Impegnativa, sì, non bisogna esagerare se no voglio arrivare qua. Andiamo. Andiamo. Ma se tu sei un professionista come Nicola allora sì. Per me è un problema. Lascio sì andare la gamba. C'è gente, c'è gente che non... Sono andati via tutti. Tutti. Eh, cazzo. Tu arrivi su se non ne hai in discesa. Quando verrà a mancare qualcuno. La discesa Arda è finita. Com'era? Bellissima. Rilassa il muscolo dopo la salita. Cotuso, scusatemi. E mi raccomando però non lasciate andare troppo la gamba perché è impegnativa comunque con la salita. che mi è stato detto prima. C'è suggerito che ci sarà restoro. Qua? Sì. Ci sarà restoro a questo punto. Per più ossettati. Certo. Ok. E poi? E poi c'è la via... No, no. Poi si va... Si va a velate. Si va a velate. Si prosegue verso velate. E andiamo verso il parchetto. E andiamo verso il parchetto. Ale ale! Prendo l'anno e sono a carico in guida. Vabbè l'anno scorso ci sono tutti ed è in allenamento. Ciao ciao a tutti. Siamo all'inizio del parchetto dedicato a Fiorella Notena. La diretta la facciamo praticamente. Sì, appunto. Sì, appunto. Il parchetto è scaiato. Quindi, una piccima, una piccima varietta. Adesso inizia un parchetto molto carino, sterrato, leggermente in discesa. Poi ci sarà un pezzo di pianura prima della ciliegina sulla torta che vedrete più avanti. Eh sì, aspettici, dai. Quindi, andiamo. Scoprirete più avanti la ciliegina. Grazie alla nostra Fiorella Notena. Ci accendiamo a percorrere questo splendido, splendido percorso. Andiamo. Andiamo via, andiamo tutti. Ciao ragazzi. Inverno, sì. Inverno, eh? Allora, io sono pronto. Quando raggiungo l'apici sono pronto. Circa 6 km arrivati al campus. Percorso fino adesso bello tosto, bello bello bello. Adesso ci accingiamo ad andare verso l'arrivo. Con la ciliegina. Con la ciliegina. Un montello. Un montello. Allora andiamo adesso. Dai, allora andiamo. Ciao a tutti. Questa è l'inizio della salita Montello Overmach. Praticamente la salita più difficile di tutto tracciato. Un consiglio che vi do è quello di mantenervi un attimo le forze per recuperare appunto questa salita. Qua ci si gioca il mondiale. Dove hanno corso giustamente i ciclisti del mondiale. Sono 600 metri di salita. Con 5 tornanti. E poi manca praticamente un chilometro e quattro alla fine del percorso. E andiamo. Brava. Scusate. Ma era la tua titta quella o la mia? Eh? La titta. Oh, la mia ciò la titta. Ah! È tagliato qua? Sì. Infatti ho fatto così, guarda. Scusate. Ah! 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 Mi do un attimo riprendere. Comunque è bella tosta, dal video non sembra ma pega bene. Per cui mi raccomando, dateci il massimo perché dopo da qui in avanti discesa e ci è tutta 3, 2, 1, via! Bene ragazzi, dopo aver salito il montello adesso abbiamo iniziato un leggero tratto di discesa per poi metterci nella via Ronchelli che è l'ultimo pezzo, una discesa abbastanza ripida, tecnica ma poi dopo ci aspetta solamente l'arco dell'arrivo No! Ok, commentino qua Oh, nebbiolina, minchia! Siamo là qui Aspetta, com'è? Finisce la discesa della via Ronchelli una discesa molto ripida e tecnica Comunque una volta che è finita dopo ci mancano solo gli ultimi 150 metri di pianura e giù, siamo arrivati all'arrivo Bene, arrivederci al fine di febbraio per la Marciango sulla vita Bene, grazie Buongiorno, è vero! Salute! 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 figurare lo